Ciao, sono sempre Betta. A grande richiesta sono tornata. Sembrerà una banalità, eppure vi garantisco che è vero. Ho ricevuto centinaia, e non sto scherzando, non sto esagerando, di messaggi che ho scritto fai video, fai video, fai video. Va bene, facciamo il video. Vi ho chiesto se volete trattare degli argomenti in particolare, o solo io, o insieme a voi, nessuno mi ha risposto. L'importante è fai video, fai video, fai video, ok. Vi ho chiesto se preferite la diretta in modo da interagire insieme, subito, fai video, fai video, facciamo questi video. C'è una cosa, una cosa, tra i messaggi, a parte fai video, fai video, fai video, avete questa morbosità di sapere tutto quello che io ho, cioè, non vi ho parlato di location, di cambio di location, che sto provando diversi movimenti, vi ho parlato di, vi ho accennato un pochino della mia patologia, molto, molto alla lontana, vi ho detto che sono una creativa, vi ho detto tante cose, l'importante è che voi sappiate dove io ho preso la felpa, dove io ho preso i trucchi, dove io ho preso i capelli, dove ho preso gli occhi. Allora, io finché posso vi rispondo, voi arrangiati. Allora, la felpa dei liti di Casper, tanto amata da tutti, è un cimelio storico, sì, un altro cimelio storico, come la felpa blu di Facebook. Più datato, perché l'ho presa nel 1996 nel primo negozio di Jump Sasha a Cagliari, in via Garibaldi, il negozio con le scalette, indimenticabile. Ovviamente il prezzo nel lire non lo ricordo, è un originale Disney, ma credo che sia decisamente fuori produzione, è introvabile, è la mia, non l'avendo. I trucchi. Ho fatto un video dove semplicemente ero quasi umana, a differenza degli altri giorni, o meglio degli altri video, perché gli altri giorni per carità è meglio che non lo sappiate. niente, utilizzo le matite Essence, due matite Essence, quindi non è che ho tutta questa grande scelta. Non mi chiedete i numeri, non mi chiedete i codici, non chiedetemi il nome della collezione, non ho idea. Ovviamente con questo non vi sto consigliando di utilizzare trucchi datati o scaduti, come è il mio caso, ma io finché ce li ho, li sfrutto. Per il resto poi aspetto gli sponsor. No, non è vero. A proposito di sponsor, ringraziamo gli sponsor. Sì, signori, non è una leggenda metropolitana, ma gli sponsor esistono veramente. Ovviamente io ho conosciuto degli sponsor fighissimi, tra l'altro per la maggior parte fighissimi, per gli eventi che organizzavo, ma lì era un contatto diretto col pubblico e la pubblicità era immediata e quindi avevo un altro effetto. Non pensavo veramente esistesse, cioè pensavo fosse veramente tutta una montatura, una cosa che c'è dietro di tutta questa roba virtuale, invece, signori, esiste. Ci sono delle persone, come il mio caso, non è un'azienda, ma sono delle persone che mi hanno messo a disposizione un budget, che non vi dirò, e la libera scelta di scegliere il sito, il negozio, la bottega, quello che mi pare a me, con due condizioni. La prima è di non divulgare l'identità di questi sponsor, che è sponsor strano. Per il momento non voglio non far sapere chi sono, quindi non lo dirò. La seconda è di far vedere quello che poi ovviamente ho scelto. Non è ancora arrivato nulla di quello che ho scelto, sempre la mia solita fortuna di velocità di consegna. E quindi ve lo farò vedere. Ve lo farò vedere perché non avevo intenzione di fare questo genere di cose, nel senso che non penso che possa interessare tutto a tutti, quindi non vorrei annoiare esageratamente, però mi sono accorta che effettivamente volete sapere. Volete sapere cosa mangio, volete sapere cosa faccio, dove sono, perché. Quindi diciamo che rimaniamo un po' nei limiti generali della vita, per il momento. E quindi vi farò vedere appunto che cosa prenderò. Prometto solennemente di dare un parere sincero, non dirò che sono cose bellissime, fighissime, utilissime e che dovete comprarle, solamente perché mi sono state regalate. No, se fa, magari io dirò che fare. Quindi da me riceverete solo un questa cosa fa schifo e quindi quello è come il famoso regalo bellissimo dell'uovo di Pasqua. Che quello mi era stato regalato, ma mica vi ho detto che era figo quel frisbee sgabuzzo che mi hanno dato. Comunque, in realtà qualcosina è già arrivata di questi urlini che ho fatto, ma vi farò vedere tutti insieme come le vere youtuber. Un'altra cosa di cui vorrei ringraziarvi è che non mi avete lasciata sola, avete, non tutti. Però alcuni hanno intuito che la mia pausa fosse presa anche per motivi di salute, ormai sappiamo che è così. Quindi grazie per i vostri messaggi, grazie per le vostre preoccupazioni e niente, sono qui. Finché ce la posso fare, ce la faccio. Volevo anche chiedervi un'altra cosa, ma ovviamente non mi ricordo. Spero di ricordarmela prima o poi, quindi faremo altri video. Non so veramente di cosa parlare perché io vorrei più che altro dare spazio alle vostre storie. Nel senso, io sono sicura, per alcuni lo so per certo, per altri. Ovviamente mi riservo il dubbio. Sono consapevole, mettiamola così, del fatto che ci sono delle storie molto particolari tra voi. Ovviamente non parlo solamente di drammi, di ingiustizie, di cose gravi, di superpoteri, di cose... No, parlo chiaramente un po' di tutto, quindi magari, che ne so, vi faccio un esempio. C'è una persona che ha un talento particolare, ovviamente il mio non è un talent show, però mi piacerebbe che questa persona lo condividesse con voi, non solo per farsi pubblicità, però mi piacerebbe che magari invogliasse voi a scoprire qual è il vostro. Come vi spiego quello che ho in testa in questo momento? Boh, allora... Diciamo che vorrei dare più spazio a tutto quello che ho intorno, ok? Visto che lo volete sapere, vorrei... dirvelo. Cosa sto dicendo? In sostanza vorrei che la gente si faccia i capi di due vostri, ok? Tipo, se sei bravo a fare qualcosa vorrei che la gente lo sapesse, se la tua storia pensi possa essere utile a qualcuno vorrei che tu la raccontassi. Vorrei che magari una tua... perché no? una tua invenzione possa essere utile a qualcuno. Vi dico questo, perché mi sono resa conto dai primi... l'avevo già intuito vagamente con i post, anche se in misura minore, ma mi sono accorta che dopo i primi video ho raddoppiato i messaggi, ma non perché sono diventata famosa, anche no, ma perché... cioè mi avete proprio detto palesemente che vi servono, ok? Io ho iniziato a fare i video, più che altro per tre o quattro motivi principali, che due venivano raccontati già nel primo video, ma diciamo che è una sorta di terapia per me, uno sfogo, non lo so, chiamatelo come volete, comunque mettiamola su questo lato della storia. Mi avete scritto che... alcuni ovviamente sono lamentati perché il video dura troppo, il video dura troppo poco, dura media, ha durata media, ha durata breve, cioè arrangiatevi, quelli sono a fare i vostri, rimettetelo, riguardatelo, non me ne frega a me. Quindi, niente, mi avete detto che appunto vi servono quei due o tre minuti di... così. Vi serve una risata al giorno e vi rende felici e aspettate il giorno dopo. Questa cosa mi solleva, perché io penso a tutte le volte, appunto, come vi ho anticipato in un altro video, che io non ho avuto modo di sorridere, ma non perché non avessi vicino persone che non lo fanno o perché non mi basta quello che ho intorno, ma semplicemente perché a volte una risata così... risata, sorriso, chiamiamolo come volete, insomma, è un modo di scaricare varie tensioni. Quindi, magari, come capita con dei video di gente a caso su YouTube, su Instagram, sui vari social, vi è capitato il mio. Avete sorriso, avete riso, alcune volte, mi avete scritto, mi avete ringraziato, mi avete fatto tanti complimenti, anche belle critiche, perché sono sempre interessanti le critiche costruttive. Quindi vorrei che tutto quello che sta succedendo a me lo provaste anche voi. Hai una storia che per te, ovviamente, è particolare, però se tu pensi che possa essere utile a qualcun altro, io ti ascolto. Con questo non voglio invitare tutti a mandarmi manone gialle, gliterini, buongiornissimi, buonanottine, cagate di quel tipo, ma veramente vorrei ascoltare le vostre storie. Ovviamente, con tutta la situazione che c'è, cercheremo di organizzarla in maniera sensata. E niente, quindi, un altro invito che vi faccio, speriamo che a questo rispondiate, visto che gli argomenti non mi rispondete, le dirette non mi rispondete, eccetera, eccetera. Ci riprovo con questa cosa delle vostre storie. Cos'altro mi dovevo dire? Sono sicura che c'era qualcos'altro, ma non lo so. Comunque, sapete una cosa divertente che mi è successa con questi video? Sto risentendo, risentendo ovviamente, delle persone che sono state o, ora, non prendetela come un'offesa o una cosa negativa, però persone che sono state di passaggio nella mia vita, nel senso che magari ci ho passato solo due o tre ore, e poi non li ho mai più visti, mai più sentiti, oppure una giornata per motivi, che ne so, di lavoro o artistici o altro, e a un certo punto si sono fatti risentire, ed è stato come se non ci fosse mai stato uno stacco, nel senso che il tono confidenziale non era né esagerato, quindi non era invadente, ma non era neanche distaccato come quello che in teoria poteva essere. Una persona che io ho visto per due o tre ore in una giornata, mi parla come se io gli risolvessi tutti i problemi della sua vita, per me è sconvolgente. Sì, mi hanno detto che rimango un po' in testa alla gente, io non so se questa possa essere una cosa grave, però a volte funziona, e quindi è divertente, cioè io non so se sono rimasta impressa alla gente perché sono una buffona, oppure per dei motivi particolari, comunque sappiate che mi fa piacere risentirvi. Ovviamente non dirò nomi, non dirò esempi, non dirò nulla di tutto ciò, ma io so chiaramente chi siete voi, e se anche voi sapete la storia che c'è dietro, ve lo devo dire, mi fa piacere. Sto parlando anche troppo, chi si lamentava che il video durava troppo poco ora mi odierà, e un po' come la storia dei vocali su WhatsApp, ragazzi. Anche questo è un argomento molto interessante da trattare, sappiate che sono un'esperta in vocali su WhatsApp, io detesto telefonare, ma sotto i 28 minuti un vocale di WhatsApp è un SMS, non vale niente. Quindi se voi superate i 28 minuti è un messaggio interessante, altrimenti è semplice conversazione. Dunque, ora vi saluto, vi ho lasciato qualche spunto, ma che ne so. Chi se ne frega, comunque ciao, sono Betta, ho quasi 40 anni, sono sempre tra voi, e ciao, mi avete rotti i colori!